carissimi amici del canale youtube dentro la notizia negli ultimi tre giorni all'unisono si sono fatti sentire i cosiddetti virologi da salotto non sono supereroi a tutela del popolo ma da quello che dicono ad alcuni hanno richiamato alla mente due brutte pagine di storia in questo video ascolteremo quelle che appaiono come gravissime affermazioni e secondo alcuni sarebbero al vaglio varie ipotesi di reato poi vedremo cosa c'è dietro e che fine hanno fatto coloro che in precedenza si sono dimostrati odiatori dei popoli c'è un solo destino per coloro che violano i diritti umani partiamo da matteo bassetti primario di malattie infettive all'ospedale san martino di genova che ai microfoni della dn kronos ha dichiarato l'unico modo che avremo per difenderci dalla variante delta sarà di avere l'85 per cento di italiani vaccinati per il 15 di ottobre con due dosi se arriviamo al 15 di ottobre con l'85 per cento di vaccinati la variante delta ci farà un baffo se invece ci arriveremo con il 65 per cento saranno dolori ebbene secondo gli ultimissimi dati i vaccinati con due dosi sono meno del 37 per cento ora immaginare che quasi il 50 per cento della popolazione si faccia la seconda dose o addirittura due dosi in tre mesi è folle e allora con queste fantasie dove si vuole arrivare non è un mistero lo dice bassetti stesso se noi avremo e mi auguro di no il 30 per cento degli italiani non vaccinati vorrà dire che avremo 16 17 milioni di persone potenzialmente suscettibili ed è troppo anche perché i non vaccinati sono distribuiti in tutte le categorie e di età e mi risulta che ci sia ancora una fettina di scettici anche tra gli ottantenni e i novantenni a quel punto bisognerà inasprire ulteriormente le misure nei confronti di chi non si vaccina sei non vaccinato non esci hai deciso di non vaccinarti di mettere a rischio la tua salute ma anche quella degli altri bene ha aggiunto i vaccinati faranno una vita normale i non vaccinati si chiuderanno in casa d'altronde ha concluso una volta che ti ho dato tutte le possibilità ti ho spiegato ti ho portato il vaccino porta a porta sul cucuzzolo della montagna e non l'hai voluto fare se ci saranno delle misure restrittive evidentemente riguarderanno unicamente i non vaccinati un vero e proprio delirio di onnipotenza motivato dall'odio verso le persone verso i non vaccinati colpevoli di ostacolare i diabolici piani dell'elite ma la situazione è così grave da giustificare queste minacce giudicate voi ieri domenica i morti ufficialmente per coronavirus sono stati 12 le persone positive al coronavirus ieri erano 44.664 ma attenzione non malati si parla di asintomatici o positivi con sintomi lievi in isolamento domiciliare cioè 43.103 persone ossia ben il 96,5 per cento del totale dei positivi i ricoverati con sintomi sono solo 1364 in tutta italia mentre i pazienti nella terapia intensiva sono 197 questi numeri ufficiali giustificano il terrorismo mediatico ditemi voi fabrizio prediasco afferma giusto il lockdown per i non vaccinati impedire sempre più attività anche andare a lavorare questo è un elemento che ci può stare nel senso che vaccinarsi è un gesto di solidarietà significa correre dei rischi ma farlo per vivere meglio quindi sicuramente ben vengano iniziative che favoriscano i vaccinati altrimenti finirebbe che dovranno mettersi ancora la mascherina per via dei non vaccinati secondo pregliasco il green pass dovrà essere utilizzato per impedire sempre più attività a chi non è vaccinato dall'andare a lavorare a fare diverse altre cose insomma afferma l'infettivologo bisogna introdurre elementi di difficoltà la sospensione dei sanitari novax è necessaria e giusta eh sì pregliasco fomenta l'odio tra le persone vaccinate e non è qualcosa di peggio della discriminazione ma tra breve ne vedremo delle belle usate lo stesso linguaggio da odiatori del genere umano ben sapendo il danno che procurate alle persone più impressionabili perché si è arrivati a questo punto ci sono dietro solo interessi economici vediamo cosa insegna la recente storia europea ci vengono in mente due episodi di crimini contro l'umanità entrambi avevano una cosa in comune e quello che sta accadendo oggi è sulla falsa riga di queste due tristi pagine di storia ma c'è un lieto fine vediamo i mostri di hitler è un saggio storico che studia la relazione tra nazismo e soprannaturale il professor eric kurlander docente presso la stetson university l'ha scritto dopo aver indagato nei documenti degli immensi archivi tedeschi e dimostra che l'occulto ha avuto un ruolo cruciale nel processo che ha portato all'affermazione dell'ideologia nazista hitler era un grande stimatore dell'occultista ernst scherter e del suo trattato sulla magia che studiò con molta attenzione ed anche i suoi più stretti collaboratori mai rinunciarono ad avere maghi ed astrologi personali sappiamo bene che fine fece hitler heimler è stato un generale politico e criminale di guerra tedesco dopo il misterioso volo in scozia di rudolf s fino allora considerato il delfino del furer nel 1941 e il suo internamento in gran bretagna heimler fu considerato il numero due della germania nazista assieme a herman goering i due infatti erano gli ufficiali più alti in grado di tutte le forze militari di quel tempo e perciò considerati i più potenti e influenti dopo lo stesso hitler himler fu anche egli un fanatico dell'occulto vi sono prove che la politica nazista veniva decisa dopo sedute spiritiche catturato dagli inglesi per essere giudicato come criminale di guerra dal tribunale militare internazionale di norimberga anche himler fece una brutta fine si diede la morte con una capsula di cianuro il 23 maggio 1945 altro odiatore dei popoli che fece una brutta fine è stato più di recente slobodan milosevic che morì nel 2006 mentre aspettava di essere processato per i crimini contro l'umanità per l'operazione di pulizia etnica dell'esercito jugoslavo contro i musulmani in croazia bosnia ed erzegovina e kosovo dal tribunale penale internazionale dell'aia nei paesi bassi il processo a suo carico anche questa volta si estinse per sopraggiunta morte prima che venisse emessa la sentenza milosevic fu trovato morto nel carcere dell'aia la mattina dell'11 marzo 2006 poco prima della morte milosevic aveva espresso timori che lo si stesse avvelenando il 12 gennaio 2006 due mesi prima della morte era stato uno scandalo in quanto nelle analisi del sangue di milosevic era stato rilevato l'antibiotico rifampicin ordinariamente usato per la tubercolosi e la lebra è capace di neutralizzare l'effetto dei farmaci che milosevic usava per la pressione alta e la cardiopatia di cui soffriva cosa aveva in comune milosevic con il nazismo slobodan studiava il mein kampf e le videocassette dei discorsi di hitler ed era sposato con una donna che si metteva in contatto con gli spiriti malvagi mira markovic sopra nominata la strega rossa morta in russia due anni fa all'età di 76 anni era uno dei consiglieri più fidati e influenti di suo marito anche la politica di milosevic si può dire dettata da creature spirituali malvage markovic e milosevic condividevano tragiche storie familiari i genitori di milosevic si sono suicidati entrambi mentre la madre di markovic è stata allontanata dal marito a causa di divergenze politiche durante la seconda guerra mondiale altra brutta fine per chi viola i diritti umani pochi giorni prima della morte di milosevic avviene nello stesso carcere quella di milan babic ex leader dei serbi di craina suicidatosi il 5 marzo 2006 impiccandosi nella cella dove scontava una condanna patteggiata 13 anni non c'è pace né possibilità di farla franca per gli odiatori dei popoli brutta fine anche per radovan karadzic politico e criminale di guerra serbo già presidente della repubblica serba di bosnia ed erzegovina dal 1992 al 1996 karadzic è stato condannato nel marzo 2016 a 40 anni di reclusione in primo grado dal tribunale penale internazionale per l'ex jugoslavia per genocidio crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante la guerra in bosnia in appello la condanna è stata commutata nell'ergastolo nel marzo 2019 cari virologi da salotto ora che sapete cosa attende gli accoliti delle diaboliche elite pensateci bene prima di rendervi complici di violazioni dei diritti umani e altri crimini ben peggiori no non pensate di farla franca una nuova norimberga o qualcosa di simile attende gli odiatori dei popoli prima di concludere volevo ringraziare la bife international che consiglia occhiali con protezione luce blu al 100 per cento made in italy la luce blu è emessa da lampadina led e allo xeno e dagli schemi di pc tablet smartphone e tv e causa disturbi quali occhio secco e occhio rosso astenopia mal di testa stress ossidativo rischi di degenerazione maculare e cataratta insonnia inibisce la secrezione di melatonina uno studio dimostrato che dopo due settimane di utilizzo di lenti con filtro per la luce blu vi è stato un aumento della durata del sonno di 24 minuti e un aumento di melatonina del 58 per cento carissimi amici del canale youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 100.000 iscritti e a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo purtroppo però le donazioni sono molto poche mettendo a rischio il nostro lavoro è particolarmente importante in questo momento il vostro sostegno chi fosse poi interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi al canale mettete un like attivate la campanella e condividete il video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro robin